10 volte con una vittoria, vari piazzamenti ed un non piazzato in 19.2 sul doppio chilometro. Tutto pronto adesso per la partenza di questa prima corsa, come dicevo partenza con i nastri, cavalli di due anni sulla distanza del doppio chilometro, vediamo un po' se la partenza viene convalidata, sembrava un po' in anticipo TNCF con Antonino Porzio ma lo starter ha dato il via libera ed è proprio Tullio Griff con Roberto Vecchione ad assumere il comando, cavallo sicuramente di buoni mezzi ma anche spesso condizionato da errori, non lo abbiamo mai visto correre al comando, vedremo un po', TNCF comunque all'esterno prova a fare pressione con la compagna dell'allenamento Tatiana Alca in terza posizione, insiste in maniera piuttosto brillante, il 5 di TNCF riesce a passare, comunque 33 ai primi 400 metri però con partenza da fermo. Adesso un altro cavallo viene avanti con grande slancio ed è Tigerio Caff con Biagiolo Verde, anche Tuono Dipa con Andrea Buzitta va a scavalaccare un Tullio Griff evidentemente in difficoltà meccanica, non riesce a tirarne fuori un'andatura incisiva a Roby Vecchione, il cavallo si è messo un po' falso, il suo interprete ha dovuto subirlo scivolando in quarta posizione, mentre in avanti adesso è TNCF con Antonino Porzio a guidare nei confronti di Tigerio Caff di Tuono Dipa, mentre il calo per così dire di Tullio Griff ha un po' penalizzato, la favorita Tatiana Alca che adesso si ritrova addirittura in quinta posizione. Sul mio cronometro ho attorno all'1.20 qualcosa meno per il primo chilometro, quindi un'andatura abbastanza modesta nonostante la fila allungata. Vediamo adesso Tatiana Alca che prova a spostare, a risalire, mentre in avanti marcia sempre abbastanza spedita e convincente, TNCF nei confronti di Tigerio Caff, poi in terza posizione sempre Tuono Dipa, mentre adesso pian piano comincia a risalire con buona grinta Tatiana Alca un po' penalizzata da Tullio Griff nella fase intermedia. Adesso sposta Biagio Loverde con Tigerio Caff e dà l'impressione di essere in grado di impegnare molto severamente la capofila. TNCF dietro i due comincia a perdere slancio il numero 3 di Tatiana Alca e invece prova a rifarsi sotto Tullio Griff dopo aver un po' tergiversato lungo il percorso. Siamo alle battute conclusive, il gruppetto in avanguardia tende a compattarsi, TNCF entra ancora al comando in rete d'arrivo, però si fa pressante il 4 di Tigerio Caff, anche Tatiana Alca prova a mettersi in evidenza, ma la capofila TNCF riesce a reggere fino in fondo e viene a vincere davvero molto bene in mano ad Antonino Porzio nei confronti di Tigerio Caff e di Tatiana Alca. Quota di 3,99 TNCF numero 5 che ricordo era legata dal rapporto di scuderia anche con i numeri 6 e 7. In sediolo Antonino Porzio che è anche il suo trainer, i colori sono quelli della scuderia Treassi, il tempo dovrebbe aggirarsi attorno all'1,19 e qualche linea. Secondo posto, buon risultato per Tigerio Caff che ha preceduto Tatiana Alca e Tullio Griff, penalizzato da qualche incertezza nella fase intermedia.